È conosciuto come il più abile distruttore del mondo animale. È in grado di demolire una sedia in plastica, una bicicletta o un passeggino. È il Kea, è il più intelligente fra i pappagalli e vive in Italia con gli unici tre esemplari ospitati al Parco Natura Viva di Bussolengo. Tra i suoi segreti c'è la forza del beccori curvo e delle potenti zampe, ma di fronte alla volontà di mangiare un arachide sembra preferisca usare la logica. In questi giorni lo staff del Parco ha messo a disposizione di Tapu, Wanaka e Nestore delle scatole di cartone ben chiuse e infiocchettate a tema natalizio, ripiene di paglia e arachidi. Quello che ha osservato conferma le straordinarie capacità intellettive del Kea. Provocata un'apertura alla scatola, il Kea si dirige verso la vasca d'acqua con l'arachide stretta nel becco e la immerge più volte per ammorbidirla e sgusciarla più facilmente. Lo fa anche con le scatole di cartone che in questo modo demolisce con minor fatica. Insomma, sembra che questa specie sia in grado di distinguere i materiali di cui sono fatti gli oggetti e usi l'intelligenza come strategia alternativa alla forza.